L'ANAC ha innovato anche il modello di intervento italiano su questi temi perché ha lavorato per lo più e soprattutto sul sistema della prevenzione piuttosto della repressione. Le direttive dell'ANAC agli enti locali, alle pubbliche amministrazioni hanno costituito in questi anni anche un punto di riferimento rispetto a un intervento di carattere pregnante sui problemi della corruzione. Il rapporto ANAC 2016-2019 definisce la corruzione un fenomeno radicato e persistente. La corruzione certamente è un reato che riguarda punti alti della struttura burocratica. Non è un reato che riguarda l'usciere che prende la camazzetta di 10 euro per farvi fare più in fretta la carta di identità, è un reato che ha aspetti che investono direttamente il modo in cui è organizzata la struttura della burocrazia italiana.